Musica Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info Quanto tempo? Lo che ci faccio. Stai tornando. No andico. Mi sono andato. Non è un momento perché siamo andati? Perchè parte il nord del mostrare? Io vizio. E tu dovevi sapere, mi vengo a fare una sua prima. Sì, questi spetano. Mirai bene. È solo l'ultima. Ma non è otto il motore. Iniziamo a fare un'altra parte, lo faccio di più, iniziamo, anche prima volta. Noi, no, mi riuscivo. Ok, deve racconto, ma cosa mi dice? Vieni, vediamo. Doviamo. Vieni, vediamo. Vieni, vediamo. Vieni, vieni. Salam alaippo. Salam, salam. Che fai, bambina. No. Come qualcosa ho fatto? C'è meramente il ciò che si Godgettà. Non so, in quanto riguarda ciò? In quanto riguarda ciò che sarebbe? No, non so. Perché non si tengono il telefono? Perché non? Perché non ciò che vuoi. Perché non sono il telefono. Perché non siは là, perché non ciò che vuoi. Noti che vuoi. è una grande parte. E' una grande parte che è molto importante. Si mi guardo, io sono andati... Non so. Non ho capito. Mi guardo di questo, il mio cuore. Ma cosa ci fa? Ma io faccio un uomo dopo il vino. Non so, ma vi faccio da un uomo. Ma vi faccio un uomo. No, ma vi faccio un po' di fatto che ci sarò. Non so, vi faccio un uomo. Allora, ok. Il suo uomo, tu puoi? No. Grazie. Mi ha fatto che il ragazzo di questa natura. Perché? È un bagaccio faiate. Un bagaccio faiate e un ragazzo. Non si c'è. Non ho capito. Non ci succederemo. Non c'è. Non c'è. Non ce c'è un gatto. Ci sono stati di una pang. No! È un gatto. 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 I dammi vedi che zara Non, hai? Non, hai. Hai? Hai qua in pianta? E, hai qua? E, hai qua? Ti faccio un po-panda? Hai qua? Niente, sei qua. Un po. Hai, non penso. Hai, hai. Hai. Hai, hai. coach ieri? Hai, hai hai. Ma suppi, turmiki, mi suppi!